Chi è? Aspetta, aspetta, vola passare. Wow! Ma chi è? Chi è? Wow! Ma chi è questo bimbo? Ma chi è questo bimbo? E come si chiama questo bimbo, Matti? Ma questo bimbo si chiama questo bimbo? Ma forse questo bimbo si chiama Gabriel? No, non c'è. E' uscito. E' uscito, Matti. E' il tuo fratellino. E' il mio fratellino. Si. E' un male a toccare con me. Lo vuoi tenere in braccia? Matti. Vedo la carizia. Con l'altra mano, Matti. Con l'altra mano. Vedo la carizia. Bravo! Bravissimo, Matti. Fratellino, sarà sempre con te? Sì, è uscito dalla tua parte. Poi piondi muah, fa muah. E poi ci vediamo il giù. Così donne. Wow! E' bello. E' bello. E' bellissimo. Dai, puoi dare un bacino? Glielo puoi dare? Mmm. Mmm. Mmm.